ciao ragazzi guardate questo bruchetto che ho preso oggi è un wild droid guardate come si muove funziona io a terra quindi guardate questo è il telecomando e direte no dove sono i tasti per aprirlo non si apre così eh lo rompete solo qui si fa così ecco qui poi qui dietro ci sono le batterie per mettere le batterie con questo si va avanti e con questo si gira e quando accendete come vedete si vede perché si illuminano i suoi occhi ci può essere un led di gioco ciao ragazzi tanti saluti da me e il mio wild droid ciao ciao